non si può fare più la politica perché non si può fare più quando abbassarono io lavorava quando hanno fatto l'abbassamento della costa di di pari tu te lo ricordi che faceva la cunetta così poi è stata abbassata tutta quella roba noi io personalmente abbiamo scaricato sopra tutta tutta con la roba sta scaricando io quando andavo a scaricare col cavo usciva il fumo e stanno vicino a 6 metri di altezza oltre con la porchetta sta tutta la roba lo sbancamento io quando l'ho frappola avevo fatto lo sbancamento la faceva come scendi un po partita sul palpone e salvi prima di girare la contrattata prima era era più più era più pronunciata alla prossima